Oggi facciamo gli adesivi Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te Oggi sono felicissima perché facciamo un video bellissimo Creiamo i nostri adesivi personalizzati Infatti oggi vi farò vedere un metodo bellissimo per creare degli adesivi fantastici Guardate qui, ne ho uno, è bellissimo, lo vedete così Poi cosa faccio? Stacco la mia cartina protettiva, voilà E lo vado ad attaccare proprio un adesivo comune Vedete, poi diventa trasparente Nel mio caso voi potete farlo come desiderate E allora prima di andare a fare i nostri bellissimi adesivi Vi ricordo che vi aspetto in tutte le librerie con il mio libro Il grande libro del colore Il libro in cui vi insegno tutte le cose che volete sapere sul colore La storia, come utilizzarlo, come creare le tinte, come accostare le tinte Ma proprio anche come creare quel colore lì Che proprio non vi viene in nessun modo Io ve lo dico nel grande libro del colore Che trovate in tutte le librerie d'Italia Come in tutte le librerie d'Italia Trovate anche il ricettario dell'arte Il mio secondo libro Dove troverete contenute tutte le ricette inerenti ai materiali dell'arte Tutti i colori, come fare i colori nelle varie tecniche Colori a olio, i gessetti, i colori a tempera Le gouache, tutto, tutto Tutti i medium, tutte le paste modellabili che conosco Tutte le ricette sono contenute in questo bel libro che trovate su Amazon In tutte le librerie online e in tutte le librerie d'Italia Vi aspetto in libreria Ma adesso spostiamoci di là e andiamo a creare i nostri adesivi Ed eccoci pronti per creare degli adesivi con le nostre mani Sì, avete capito bene Da oggi gli adesivi li creiamo noi Cominciamo subito Cosa ci occorrerà? Della carta forno Dello scotch trasparente Più larga la fascia è Più grande potranno essere i vostri adesivi Poi dei soggettini da ritagliare Io per esempio qui ho la mia facciona Il logo di arte per te E poi ho preso anche una fantasia a quadretti Che sta sempre bene sul tutto Ma ho preso anche questi fiori secchi Che compro su Amazon Vi lascio il link casomai in infobox Perché sono bellissimi per fare degli adesivi molto particolari Ma potrete prendere anche dei vecchi disegni di vostro figlio Quando vostro figlio magari vi fa un bel cuoricino O dei disegni vostri che volete far diventare degli adesivi Un paio di forbici e basta Iniziamo subito Prendo un pezzo di carta forno E la poggio sul piano da lavoro La blocco con un paio di tubetti E quello che ho a portata di mano Quindi prendo una striscia del mio scotch Lo tiro e lo attacco Qui sulla carta forno Così Io per fare gli adesivi con voi Ne farò più di qualcuno Quindi attacco due strisce A questo punto Ricavo i miei soggettini Un po' come mi pare Quindi per esempio Prendo un tappino Voglio prendere la mia faccia Ok E ritaglio Poi che ne so Prendo il logo di arte per te E lo ritaglio Semplicemente Da una fantasia che mi piace Ricavo un cuoricino Oppure apro la bustina Dei miei fiorellini Ne tiro fuori Che bello questo Uno che mi piace Questi fiori secchi Sono fiori naturali Guardate che belli Ora Possiamo procedere in due modi Vi avvicino O semplicemente Prendiamo un'altra striscia di carta E la sovrapponiamo Oppure Se vogliamo essere più bravetti E più precisi E senza fare grinze Facciamo così Prendiamo dei pezzi Più piccoli Di scotch Così E li sovrapponiamo Così Alle nostre immagini Voilà Uno Prendo Prendo un altro pezzo Di scotch Così facendo Avendo Dei pezzetti Di scotch Più piccoli Sono molto più semplici Da gestire Adesso Con le forbici Tolgo Qui La mia prima striscia Ritaglio I miei adesivi Facendo attenzione A sbordare Un pochino Potete tagliarli quadrati Tondeggianti Ecco I nostri quattro adesivi E voi direte Ombretta Scusa Ma io vedo Quello che vedevo prima Solo lucido Come dici Che sono diventati adesivi Vi faccio vedere Prendo una bustina E per esempio Tolgo Sgancio Vedete E così Come si fa con le figurine La carta forno E Appiccico Ah ah Non ve l'aspettavate Il mio bellissimo adesivo Per esempio Se voglio far vedere Chi ha inviato Vi faccio vedere Quanto è semplice Sganciare l'adesivo Prendo la mia Agendina Ci piazzo Proprio qua Un bell'adesivo Poppetè Guardate Che meraviglia Oppure Sulla pagina nera Della mia Agendina Qui Che è tristissima Guardate Apro Il mio Fantastico adesivo E lo poggio Qui Wow E' pazzesco Voilà Non è bellissimo Ma hai fatto tu Questo adesivo? Che figo E adesso Anche questo Ho fatto io Vediamo l'adesivo Di arte per te Lo mettiamo Come affrancatura Alla bustina No Non lo voglio sprecare Lo metto sempre qui Sul mio Sulla mia Sulla mia Agendina A chiusura Anzi Mettiamolo bene Il logo Et voilà Ed ecco qui Il mio quarto E ultimo Adesivo Ora Non sono Fighissimi Non c'è altro Modo per definirli Per chiudere le lettere Per abbellire un bigliettino Per appiccicarli Sui vetri Fatene ciò Che volete Li potete anche Personalizzare O creare Romanticissimi Con le foglioline E i fiori secchi Ora Voglio appiccicati 250 milioni Di pollici in su Per questi Adesivi Personalizzabili E fai da te Bene Ci rivediamo Subito dopo le foto Per commentarli insieme Ciao Visto che belli I nostri adesivi Non sono Troppo Belli Anzi Non sono Troppo bellissimi Ora scrivetemelo Che non si può dire Vi prego Guardate qui La mia lettera Chiusa Col mio adesivo E la mia Agendina Guardiamola Guardiamola Wow Non è mai Stai Sempre piena di carte La mia Agendina Non è mai Stata così Bella Vedete come L'adesivo Poi se lo lasciate Così trasparente Prende la coloritura Del fondo Quindi si mimetizza Perfettamente Io Megalomane Mi sono fatta Anche un adesivo Con la mia faccia Che ci sta Sempre bene Oppure Il loghino Di arte Per te Stabilissimi Impermeabili Super lucidi Bellissimi Provate anche voi Gli adesivi Homemade E fatemi sapere Se questa idea Vi è piaciuta Potete anche Rendere adesivi I disegnini Che vi fanno I vostri bimbi I cuoricini E così dureranno Veramente per sempre Bene Pollice in su E condivisione Se questo video Vi è piaciuto E a me Non rimane Che darvi appuntamento Al prossimo video creativo Vi aspetto Su tutti i miei social Facebook Youtube Instagram TikTok Tutto Arte per te A vostra disposizione Vi aspetto Sui miei altri due canali Ombretta Il mio canale Di lifestyle E due quale una k Il mio canale Di cucina Ma vi aspetto Sempre e comunque Qui Come vi dicevo prima Per il prossimo video creativo Ciao Da Ombretta E da Arte per te È tutto Passo e chiudo